L'ultimo rapporto Censis-Cassaforense ha scattato una fotografia sullo stato di salute dell'avvocatura tra luci e ombre. Aiga, l'associazione nazionale giovani avvocati, presieduta a livello nazionale dal barese Francesco Paolo Perchinunno, ha organizzato un incontro sul tema a Bari, invitando delegati di Cassaforense e i presidenti degli ordini pugliesi. Dai dati, sul fronte dei redditi, emerge una ripresa che si attesta dal 14 al 15%. Questo è sicuramente un effetto positivo, è un po' un rimbalzo dell'effetto negativo che abbiamo avuto nel 2021, ovviamente causato dall'emergenza Covid, però è sicuramente un dato positivo che speriamo si consolidi in quest'anno. Tra le criticità, il divario di genere, le donne avvocato in Puglia guadagnano mediamente la metà rispetto ai colleghi uomini. Ecco, questo è un altro grandissimo problema, il gender gap è sicuramente un qualcosa che impatta in maniera importante nell'avvocatura italiana. I sistemi di tutele, soprattutto per le donne che vivono anche l'esperienza familiare, l'esperienza di madre, sono un qualcosa sul quale l'Aiga sta puntando la sua attenzione, chiedendo al nostro ente di previdenza maggiori sforzi per sostenere e tutelare le donne avvocato. Ma la professione forense è un tempo molto ambita, esercita ancora il suo fascino? C'è purtroppo una perdita di appeal nelle giovani generazioni, i dati di iscrizione ormai non superano il numero delle cancellazioni. C'è evidentemente un effetto negativo in termini di attrattività, però ci sono segnali positivi, soprattutto da chi si iscrive nei nostri albi c'è una voglia di interpretare in maniera innovativa la professione forense, con un ruolo dell'avvocato non più come esperto esclusivamente della fase patologica dei problemi, ma come un giurista moderno, esperto nella consulenza che può essere da supporto nella crescita e nello sviluppo delle nostre aziende. La Puglia si inserisce nel trend nazionale evidenziando un buon passo. La Puglia cresce anche in media rispetto a quelle che sono le altre regioni del meridione, cresce di più. Sicuramente l'impatto anche sul numero delle iscrizioni ci consegna una realtà che sta crescendo, che si sta sviluppando e che sta accogliendo le opportunità che oggi il mercato ci consegna.